Ben ritrovati, dire, fare, donare, sconfiggiamo la leucemia, è lo slogan che sta portando avanti da 12 anni il fondatore dell'associazione Federica Albergoni, Maurizio Albergoni che abbiamo in studio. Riprendiamo il discorso con lei, proprio con questi tre concetti, dire, fare, donare. L'importante è donare per far crescere l'associazione, per far del bene a altri e donare qualcosa che difficilmente potrebbe essere donato, che è la vita. Vogliamo ricordare anche innanzitutto la vostra associazione, se qualcuno volesse donare il 5 per mille, io devo leggere perché è la banca popolare di Bergamo, figliale di Albino, IBAM, Imola, Torino, 60, K come chilometro, 0,31, 11,52, 4,8, seguito da 11,0, 4,3, 0,7. Chi volesse donare naturalmente è il benvenuto perché queste associazioni vivono proprio dell'amore ma soprattutto anche delle donazioni e come ci diceva il signor Maurizio, la Varsiriana si è dimostrata attenta, sensibile, come sempre in questi casi, a donare. Penso che lei nel ricordare il suo dramma di aver perso sua figlia in tre giorni faccia riflettere molti sulla necessità di fare questa prevenzione, di essere attenti, soprattutto di avere anche un metodo di difesa o meglio ancora di attacco a questo virus facendo non solo prevenzione ma donando questo midollo osseo che è vitale per la vita nostra. Lei ci stava parlando poc'anzi anche delle scuole, alcune difficoltà, sconfiggere ancora le difficoltà di qualche dirigente come si fa? Sparare? No, assolutamente, no, 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 non lo spariamo a nessuno. Si tratta solo di capire il problema essenziale quello di acculturare i ragazzi ma non solo i ragazzi, anche i genitori. Infatti noi andiamo nelle scuole anche nelle elementari, nelle medie per iniziare a fargli capire. Nelle metà ne faccio vedere il corpo umano che sono dei piccoli filmatini che capiscono esattamente che cosa è il midollo osseo e cosa si fa. È un piccolo giochetto diciamo così. E questo facciamo imparare anche nelle scuole medie, entriamo più nel profondo, ma soprattutto nelle scuole superiori dove facciamo capire esattamente che cosa è la leucemia. Poi come si dona? Perché tutti pensano che il midollo osseo sia il midollo spinale. Non è quello, è tutta un'altra cosa. Difatti la gente che dice mi toccano la schema, vado all'ospedale, c'è un'operazione. Assolutamente no. Prima, allora, essere compatibili vuol dire poi fare una ricerca approfondita perché noi quando raccogliamo adesioni c'è una specie di autocertificazione della buona salute salute oggi. Compilano un'anamnesi e compilano e va tutto bene. Importante è che non abbiano naturalmente avuto tumori, cioè malattie importanti. Fatto quello, quando si viene poi risultati compatibili, allora c'è proprio uno, fanno un check-up completo perché deve essere proprio, diciamo così, molto senza avere problemi di salute così. E da lì poi inizia, si scaturisce tutto il discorso. Come si fa a donare? Facciamo una cosa veloce, perché non sono un medico, quindi non voglio causare delle cose. Come si fa a donare? Prima di tutto ci sono due forme. Una, quella più invasiva, metodo vecchio, che pensavano a un'operazione, e invece sono dei piccoli forellini perché il midollo osseo è dentro, nelle ossa. E' un discorso liquido, quindi si fanno piccoli forellini nelle ossa e si toglie il midollo osseo, questo sangue poi, no? Però fa male, quindi occorre un'anestesia totale, dura tre quarti d'ora l'intervento e fai dei ospiti di 48 ore. Dopo vai a casa, i primi due giorni si ha un po' di mal di schiena, magari due o tre lineetti di febbre, però niente di particolare. Dopo tre o quattro giorni recuperi quello che è donato. Oggi invece la nuova tecnica è la ferrisi, cioè il nostro sangue, perché le cellule staminali emapoglietiche si chiamano, più midollo osseo, ma cellule staminali emapoglietiche, è la fabbrica del sangue. Noi senza queste cellule qua non possiamo vivere senza sangue, non possiamo vivere. Allora cosa si fa? Si entra, diciamo, una settimana prima che si risulta compatibile, si fa una punturina una mattina o una sera in modo tale che quelle cellule staminali dalle ossa, entra nel sangue circolante. Effetti collaterali hai una o due linee di febbre, però uno può andare al lavoro, può studiare, può fare attività sportiva, non c'è nessun problema. Dopo questi cinque giorni si va all'ospedale, ci si sdraia sul lettino, si toglie il sangue da un braccio, questo sangue vanno a centrifuga e con dei magneti tolgono le cellule staminali in più che si hanno e dall'altro braccio ti rimettono quello che non serve. Quindi è una trasfusione, non è più. Fatto questo, finito, dura un'ora e mezza, due, in base al quantitativo che l'ammalato ha bisogno di cellule staminali, fatto questo ci si alza sul lettino e si va a casa da solo, senza avere nessun problema. Ecco, questo è quello che vogliamo noi far capire, che non è una cosa invasiva e poi noi, a posto di fare questa piccola pizzicata di prelievo per l'analisi dell'essere futuro donatore, facciamo il prelievo salivare che è ancora meno invasiva. Quindi stiamo cercando di trovare dei sistemi in modo tale che il volontario non abbia questi patemi per andare a essere futuro donatore. E questo è qualcosa più tranquilla. Ma in Lombardia ci sono altre istituzioni, altre istituzioni come la vostra oppure con cui siete in contatto? C'è l'ADOMO che è... No, ma siete in contatto voi come Federica Albergoni in contatto con queste nuove strutture o stanno crescendo nuove strutture sulla vostra, sul vostro schema, sulla vostra forma? Cioè, da quello che ne so io, no, ci sono delle, quando ci sta, come è successo a Federica, no, che è morto, ci sono delle associazioni che a nome del figlio, del parente, si costituiscono e fanno queste, diciamo, costituiscono anche queste associazioni. No, però sono pochissime, sono pochissime. Io sono in contatto per esempio con un'associazione del Sargerardo che è collegato con il Sargerardo di Monza, no, anche loro fanno, è una specie di Paolo Belli, però loro raccolgono solo fondi per naturalmente, diciamo così, sviluppare la ricerca. Noi, per esempio, i fondi che noi abbiamo, ecco, voglio specificare una cosa, noi quei fondi che abbiamo avuto, oltre che a donare, a costituire questa unità mobile, abbiamo dato anche un materiale, una termociclatore che serve per analizzare, fare più la svelta, analizzare la tipologia del midollo osso in queste provette, no? E poi abbiamo costituito anche quattro borse di studio perché ci hanno detto, vabbè, all'ospedale ci hanno detto, voi adesso avete costituito questa unità mobile, cioè ci avete aumentato anche il lavoro, no? Allora, va bene, dai, allora, se avete bisogno di qualche altro, ma ditecelo che noi raccogliamo fondi per questo, no? Difatti c'è questo termociclatore. Dopo questo termociclatore ci hanno detto, però abbiamo bisogno anche del materiale, le chiamano le pipette, le siringhe, tutto quel materiale di corredo, va bene, ho fatto anche quello. Poi ci hanno detto, sì, però adesso noi abbiamo bisogno di personale, perché naturalmente voi ci avete aumentato, abbiamo bisogno di personale, e loro il personale, giovani, biologi, che entrano in quello studio per farsi esperienza. E allora abbiamo detto, vabbè, loro sono tutti borsisti, quindi una borsa di studio. Allora noi abbiamo detto, vabbè, iniziamo a raccogliere fondi per queste borse di studio. Ne abbiamo già date quattro borse di studio di 12 mila euro l'una all'anno. Quindi tutti questi fondi che noi raccogliamo, queste donazioni, oltre che a coprire le nostre spese, che non sono tante, diciamo la verità, tutti questi soldi vanno incorporati in queste borse di studio. Possiamo dire che questa sua attività benefica, che la porta a essere così entusiasta, così vivace, convincente, potrebbe meritarsi anche una laurea ad onoris causa, in quanto talmente bravo nell'esplicitare tutte queste situazioni, le può lenire in parte la perita di una figlia? Diciamo così, allora, io quando vado a fare i miei cammini a Santiago, quando io incontro i ragazzi e vedo il filmato di mia figlia, non sono io che parlo, ma è mia figlia che parla, cioè io non sono mai stato un oratore, ho fatto la terza media e mi hanno cacciato fuori anche la terza media perché non erano di quelli... però questa forza che mi dà Federica, io la voglio trasmettere agli altri e secondo me è una cosa che dietro di me c'è sempre lei, quindi mi allevia tanto, certo, nei momenti, non so, tutti i giorni di Natale sono le più tragiche per noi, no? Mia figlia è nata il primo maggio. Comunque mi permetti aggiungere che non c'entra la terza media per quello che ha fatto, c'entra la fede, guardi lei ha una grande fede, sta dando un grosso insegnamento che si può fare molto per gli altri e torna a ribadire, quando si ha un grosso dolore si deve fare in modo, si vuole fare in modo che altri non provino le stesse sofferenze, le stesse pene. Questo le fa veramente onore, io mi auguro che nella sua vita possa trovare serenità sicuramente perché l'ha già trovata e possa sviluppare oltre modo e soprattutto molti che seguono il suo, diciamo, insegnamento, ma soprattutto i giovani, spero che lei riesca ad agganciare molti giovani perché è nel futuro dei giovani. Esatto, è quello che vogliamo noi entrare nelle scuole per far capire esattamente i giovani che cosa si vuole fare. Io ho dei ragazzi stupendi che mi aiutano, sono persone naturalmente 25-30 anni così, che veramente sono eccezionali e anche loro vanno a ricerca negli oratori per esempio, facciamo degli incontri negli oratori, facciamo incontri anche, loro mi chiamano e mi dicono, siamo in 5-6 e vorremmo capire, sono a disposizione, non ho nessun problema, anche perché se sei in un'assemblea pubblica allargata tanta, la gente magari non riesce a capire. Ecco, come risponde la gente a queste assemblee? È scarsa, diciamo, l'america. Noi, la nostra campagna è assemblea pubblica, la settimana in settimana e al sabato, domenica, arriviamo con il nostro campo e facciamo il prezzo. Non prendiamo, diciamo, non prendiamo ordinazioni per fare questo prezzo. Per notazione. Per notazione. Ecco, noi facciamo al giovedì o al mercoledì, facciamo queste assemblee pubblica e spieghiamo esattamente, prima di due facciamo vedere la nostra storia, poi spieghiamo esattamente che cosa vuol dire donare il midollo osseo. Fatto quello, al sabato o domenica, se ci sono magari, ci allasciamo anche a, se ci sono delle feste patronali, feste commercianti e così, no? Arriviamo con la nostra unità mobile e lì siamo pronti per ricevere futuri donatori. E anche lì rispieghiamo ancora, prima naturalmente, come ho detto, prima di essere convinti di fare questo atto, perché è una cosa molto, ma molto importante. Ma ha mai pensato nella sua vita di corridore, l'ha girato quattro continenti, di corso, di mettersi in gioco e di correre anche per la vita degli altri? L'avrebbe mai pensato che un giorno sarebbe arrivato a fare questa strada che la porta sicuramente a fare del bene per tanta gente? Guardi, io ero presidente della Polisportiva del Senzanese, ad Albino, no? E quando ho fatto tutte queste corse qua ho detto, ma perché noi come atleti non mettiamo a disposizione le nostre gambe per gli altri? Non c'era ancora Federica, non c'era ancora. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo inventato, no? Insieme alla Wildem di Bergamo, Unione Italiana Lotta a Dittrofia Muscolare, no? E poi giaccia il Teleton, ok? Cosa abbiamo fatto allora? Essendo abbiamo fatto le staffette dell'amicizia, no? Siamo andati, l'ultima nel 1990, per esempio, abbiamo fatto vino bosca, no? A piedi, no? Eravamo in 25, abbiamo fatto tutto a 3.050 chilometri, ma puro divertimento, oltre che fare il lato fisico c'è anche il puro divertimento. Vi hanno detto, ma perché non usiamo qualcosa? Allora abbiamo iniziato a, diciamo, l'idea di scuola di Bergamo, di fare una staffetta podistica che da Lizzola, dove fino a Bergamo, coinvolgendo tutti i paesi della Varseriana. Sono andato alla ricerca di un punto di riferimento per ogni paese, per raccogliere fondi, perché Teleton raccolta fondi sulle malattie genetiche, e poi noi con la staffetta passavamo e raccogliamo quelle cassettine e le portavamo a Bergamo, alla Wild. Abbiamo iniziato dalla Val Seriana, per poi se l'ha giunta la Val Cavallina, se l'ha giunta la Val Brembana, la Bassa, così, abbiamo, c'è stato un anno, mi ricordo, con il discorso di Rai, della Rai, così, ci hanno detto, c'era una piazza, riferimento, che era la piazza di Como, allora noi da Lizzola siamo arrivati fino a Como, e lì abbiamo coinvolto anche l'esercito, abbiamo coinvolto i gruppi di equitazione con i cavalli, abbiamo costruito proprio un qualcosa di eccezionale per raccogliere adesioni, per raccogliere fondi sulla ricerca delle malattie genetiche, e la leucemia è una di queste. Possiamo dire che lei è nata con il DNA del volontario e del volontariato. Sì, mia mamma mi ha detto, guarda, io ero un po' svergolino, mi hanno detto, guarda, tu fai tutto quello che vuoi, ma però non devi pensare a te stesso, ma devi pensare un po' anche agli altri, e di fatto ho fatto così, anzi, posso dire, mi dispiace, ma ho pensato di più agli altri che a me stesso, perché io, mia figlia è nata quando io ormai ero quarantenne. Era un ragazzo. Ma se potesse sentire il suo figlio, che cosa direbbe a lei? Se potessi, questo è il mio scopo per iniziare, io vorrei che mia figlia, mi auguro, ma sarà difficile, mi apparisse un giorno e mi diceva, papà, guarda, non ti preoccupare, io qui sto bene, e quindi per me sarei la persona più tranquilla. E se dovessi dire a mia figlia qualcosa, gli direi grazie, purtroppo non ci sei, ma grazie a me hai dato quello spirito di continuare e far continuare la vita anche alle altre gente. Lei si sente soddisfatto di quanto fatto o si aspetta ancora qualche soddisfazione di più? No, io non sono mai contento. Per se stesso e per gli altri soprattutto. Io purtroppo non sono mai contento e voglio sempre di più. Io vorrei che fuori dal nostro camper, al centro, ci sia la fila per essere futuri donatori. A me non mi interessa, non voglio essere un eroe, non mi interessa niente. Io voglio che la gente che non si dica mai a 19 anni se n'è andata. E su quella triste notte avete qualche rimpianto, avete pensato di aver fatto tutto oppure c'è stato qualcosa che è mancato? A distanza di anni con serenità. Sì, ma c'è stato qualcosa, magari potevamo essere più precisi, mai potremmo, diciamo così, dare più risalto alla nostra unità mobile. Io non sono capace questo, dovrebbero farlo i miei giovani, far capire, guardate, potesse una Genova, una Firenze, in modo tale da costruire un ciclo, un ciclo importante per raccogliere adesioni, perché siamo, siamo proprio in basso. Noi, mi ricordo che la dottoressa Laura Castellani, quando avevamo iniziato questa attività, mi ha detto, guarda, mi ha fatto vedere gli schemi, no, delle donazioni erano in calo. Non perché sono arrivato io, però è arrivata anche altra gente che le è successo un discorso. Abbiamo iniziato ad aumentare questi donatori, però secondo me ce ne vuole ancora tanto, si potrebbe fare ancora molto, ma molto di più. Molto, ma molto di più, sì. Penso che se 13 anni fa ha perso una figlia, lei da 10-12 anni ha guadagnato molti figli, molti amici e molto affetto. Sicuramente l'amore e l'affetto di un figlio non può essere mai ripagato da niente e nessuno, ma quanto sta facendo sicuramente le fa onore, fa onore alle 20-30 persone che le sono vicine e che credono. Io mi auguro solo che la gente creda in quello che lei ha fatto, continui a sostenerlo e faccio presente che il vostro slogan, lo ripeto ancora, dire, fare, donare, è fondamentale per costruire un futuro migliore, meno sofferenza, meno improvvise situazioni di dolore, perché attraverso la ricerca, attraverso il volontariato, la donazione si può veramente migliorare se stessi e anche gli altri. E se volessi fare l'ultimo appello? L'ultimo appello? Bisogna dire tante cose, ma aprite il cuore, cercate di capire esattamente che cosa vuol dire salvare la vita alla persona, perché noi l'abbiamo visto adesso con questo Covid, no? Io pensavo che la gente diventasse un po' più matura, fra virgolette, e più disponibile. Abbiamo visto che cosa? Invece no. È stato il ritorno che non è andato bene. Tutto il paolo si guardava uno con l'altro, la mascherina, scappavano via tutti di qua e di là. E invece bisogna capire, esattamente entrare nel nostro cervello e far capire che basta una piccola cosa, uniti si può arrivare a un obiettivo fondamentale, ma soprattutto salvare la vita, perché salvare la vita non è mai appagata per niente. Questi due anni di Covid quindi hanno penalizzato pesantemente la vostra associazione? Molto, 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 sì, sì. Perché quando si sospende un'attività, come in tutti, si sospende un'attività per ricominciare, è duretta, adesso non stiamo ricominciando, io purtroppo ho una certa età che non sono però, voglio spingere i giovani a prendere il mio posto e fa e con altre cose molto più, magari, di progresso, progressiste, per arrivare nel cuore della gente. Io penso che lei oggi con la sua testimonianza di fede, di capacità, di altruismo, ricordando anche la tragedia di sua figlia Federica, abbia impresso un segno importante nel cuore di molta gente, perché non si può rimanere indifferenti quando la sofferenza di un genitore si trasforma nella disponibilità, nel dare la vita ad altri. Io ringrazio lei per la partecipazione, auguro alla gente di comprendere il messaggio e se credono a quanto detto, a quanto proposto al signor Albergoni, dire, fare, donare, ricordatevi, la fondazione che per sconfiggere la lucemia servono anche i fondi, per cui donate il vostro 5 per 1000. In sovraimpressione appariranno anche le coordinate bancarie, però l'importante è credere in quel che si fa, perché se uno fa del bene, innanzitutto lo fa per se stesso e si sente più sereno e poi se lo fa per gli altri, meglio ancora. Grazie per essere stati con noi, alla prossima settimana. Grazie a tutti.